Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Il concorrente pronto ad uscire per sempre dal grande fratello. Proprio così, ci sono delle dinamiche in atto molto interessanti in queste ultime ore e uno dei concorrenti potrebbe lasciare da un momento all'altro. O almeno è quello che ha rivelato ai suoi compagni d'avventura. Tutto è iniziato alla vigilia di Natale, quando Marco Madaloni ha rivelato a Beatrice Luzzi qualcosa su Giuseppe Garibaldi. L'uomo ha parlato di un burattinaiole e per essere sicura di aver capito bene, la famosa attrice è andata direttamente dal bidello per chiedere conferma. Chiaramente Garibaldi avrebbe reagito molto non proprio benissimo, scoppiando e lanciando un pugno contro il muro. Ma non è finita qui perché nelle ore successive Giuseppe Garibaldi è tornato sull'argomento e ha criticato più volte Beatrice, tutto a causa del fatto che lei gli avrebbe attribuito il ruolo di burattinaio, anche se in realtà la Luzzi stava solo riportando una teoria di Marco. In risposta a ciò, Giuseppe Garibaldi ha lanciato un ultimatum al grande fratello. Il giovane ha detto, ma che burattinaio sono io qui dentro? Sono uno come lei, un concorrente normale. Al massimo se c'è stata una che ha giocato è stata lei e l'ha fatto con i miei sentimenti che erano sinceri. Io ancora oggi penso questo e credo che lei abbia fatto la giocatrice. E da prima che mi dice che sono un burattinaio e poi mi ha chiamato Gigolò. Poi ancora Giuseppe Garibaldi, non rispondo una, non rispondo due, non rispondo tre e poi. Punto. Non è mica nella legge costituzionale che dove c'è lei devo starci io. Io non voglio stare dove sta lei. Non ha voglia di essere cattiva? Lei è così è proprio cattiva. Non sono parole da dire, mi ha detto che sono un burattinaio. Fa e dice cose che non mi stanno bene e che sono brutte. Giuseppe Garibaldi allora ci è andato pesante e ha detto quello che forse potrebbe segnare la sua condanna dal reality. Dall'inizio alla fine non mi ha mai detto una bella parola e adesso basta. Qui dentro, o io o lei. Ora, in tanti sono sicuri che il ragazzo merita attenzioni, ma tra lo scegliere tra lui e Beatrice sappiamo tutti chi è la preferita del pubblico. Hai posteri lardo a sentenza però? Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.